Ci troviamo su una discarica esaurita, quindi chiusa, però da quello che l'alluvione ha portato con sé si vede c'è una discarica a cielo aperto. Tanti sono i danni, incendi sono i danni per il paese, però questo potrebbe essere un danno ancora superiore perché è un danno ambientale, un danno che può creare alla comunità veramente grossi problemi. Sicuramente questa è una bomba a cielo aperto, noi su questa discarica abbiamo già una progettazione, c'è stata già la consegna dei lavori per la bonifica della stessa e delle aree circostanti alla discarica. Adesso non sappiamo come andrà a finire perché questi fondi europei dicono che ci verranno revocati in quanto non è stata rispettata la tempistica di consegna dei lavori. Però dobbiamo provvedere il prima possibile alla messa in sicurezza della discarica perché a valle di questa c'è il fiume Reinello, un torrente, un affluente del fiume Tammarecchia e sotto ci sono delle culture, delle culture degli allevatori e quindi andremo a inquinare tutte le falde acquifere, sarebbe un macello. La nostra priorità appunto è la messa in sicurezza e la bonifica della zona. La discarica è una bomba ad orologeria perché là è in atto una frana che potrebbe far scendere l'intera discarica in un affluente del torrente Torti e quindi del Tammaro con delle conseguenze penso catastrofiche dal punto di vista ambientale.